SINNOVA Full School è un progetto organizzato dal 10LAB, il Science Center di Sardegna Ricerche, che parte dall'idea di portare dei contenuti inerenti alle tecnologie digitali, al mondo digitale, alle nuove tecnologie, agli studenti, contenuti già trattati nel corso di SINNOVA, il Festival dell'Innovazione della Regione Sardegna organizzato dal Sardegna Ricerche, e quindi portare questi contenuti secondo forme e metodologie proprie del 10LAB, quindi legate al mondo dell'apprendimento informale. In ogni tappa, che si svolge in tutta la Sardegna, Cagliari, Sassari, Nuro, Ristano e Olbia, la settimana prossima, proponiamo attività come dei talk molto particolari, più dialogati, diciamo, di quelli che normalmente accadono nelle sale conferenze, attività di tinkering, quindi laboratori ingegneristici molto, molto creativi, dove vengono fuori competenze chiave legate all'innovazione, come creatività, Provensovia e capacità di lavorare in gruppo, e spettacoli science show legate all'intelligenza artificiale.